Eccoci qua a voi tutti, ben ritrovati amici di Retta 7, beh lo abbiamo detto purtroppo questo tempo rimane capriccioso, molto capriccioso. Andiamo a vedere comunque cosa accadrà nella giornata di domenica, tra la mattinata e il pomeriggio ancora resisterà, è un po' abbastanza tranquillo, con molte nuvole. Le maggiori aperture del cielo tra la Val d'Aosta e i settori nord-occidentali del Piemonte. Ma vedete le nuvole aumenteranno, questa è la previsione per il pomeriggio, nuvole che aumenteranno da sud-ovest e le nuove piogge, nuove precipitazioni tra Liguria e il Cuneese entro la serata in avanzamento verso nord-est. Quindi entro la serata nuovo peggioramento, nuove piogge. Vediamo le temperature, pressoché stazionari è sino a metà mattinata, poi nel pomeriggio, tra il pomeriggio e la sera tenderanno a calare perché tornerà l'area un po' più fresca, freddina, proveniente da nord-ovest. Io per ora ho concluso cari amici, buon proseguimento di giornata, arrivederci.